Musica Uno, due Applausi È un giorno importante per Monfalcone di festeggiamenti, di sport, di cultura, commemorazione e di uno sguardo al futuro Un futuro che, come la storia della città insegnato, continuerà a guardare verso il mare verso il punto più a nord del Mediterraneo in acqua Per l'amministrazione comunale il coronamento di una lunga progettualità che culmina con la chiusura dei lavori di riqualificazione del canale Valentinis un'opera simbolo della nuova attrattabilità del litorale monfalconese In otto anni abbiamo veramente stravolto la città, ovviamente in senso positivo Tantissimi lavori pubblici, questo diciamo è un po' l'apoteosi di quello che era il nostro indirizzo di governo Riuscire a sposare il mare che entra in città Tutte le qualità che il mare porta con sé e tutte le opportunità che il mare porta con sé in questa città erano fondamentali e andavano giustamente valorizzate Questa era una città che poteva esprimere molto ma non si riusciva a valorizzarla nel modo giusto Con questo genere di intervento noi avremo la possibilità un pochettino come lo vediamo anche oggi nell'inaugurazione del promo mare e di altre attività come la festa dello sport che la sta accompagnando avremo la possibilità di valorizzare il mondo associativo quello dello sport in particolare e di tutte le realtà che con le marine esistono qui a Monfalcone e soprattutto anche il comparto commerciale che è sempre per noi determinante e importante La nautica è quello che ci darà e ci permetterà la svolta di questo territorio non solo della città ma di tutto il territorio nei prossimi anni Questo tipo di intervento va in quel senso Il tutto anticipato oggi dall'intitolazione della scalinata che collega il canale alla città a Norma Cossetto giovane patriota istriana uccisa nelle foibe Scalinata Norma Cossetto La cerimonia è il preludio al taglio del nastro della quinta edizione di Promo Mare una tre giorni dedicata al canale Valentini se al Golfo di Panzano finalizzata la promozione di attività sportive e commerciali e che quest'anno per la prima volta è stata allestita e vissuta in mare Sono passati 199 anni da quando fu scavato il canale Valentinis e l'idea era proprio quella di far entrare il Mediterraneo nel cuore dell'Europa Beh oggi abbiamo fatto qualcosa di molto importante per la città molto importante per tutta la regione perché questa è una città che si sta molto sviluppando con il mare, con la nautica ho letto recentemente un articolo sulla canzetta dello sport per esempio in cui parlava di nautica e l'idea è che molti vogliono investire qui sulla nautica, grandi anche aziende è dato proprio da quello che si sta facendo cioè quando l'amministrazione si muove cercando di creare valore per il territorio arrivano gli imprenditori e questo è molto importante perché dà un po' la misura anche di quello che sta tentando di fare la regione cioè portare il suo brand, la conoscenza di questo grande territorio in tutto il mondo e quando si fanno queste cose arrivano chi vuole investire nel nostro territorio, arriva sicuramente